Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio portare un gioco attesissimo, anzi uno dei giochi più attesi del 2019 e Kickstarter di successo che se non erro hanno incassato dai 400 e 500 mila euro per questo Kickstarter quindi un Kickstarter fondato, richiesto e molto interessante. Parliamo ovviamente di Barrage nella sua versione retail, un gioco di Tommaso Battista, Simone Luciani e Antonio De Luca. Tre ragazzi che hanno lavorato su questo progetto, su questo Kickstarter e se non erro uno di loro tre non me ne voglia nessuno di male, uno di loro tre dovrebbe proprio lavorare come ingegnere idroelettrico o qualcosa del genere quindi è comunque uno che se ne intende di questo panorama che mi hanno andato a descrivere gioco edito dalla Cranio Creations che noi ringraziamo ancora una volta e colgo l'occasione perché visto che è più o meno, alla fin fine, mese più, mese meno ci siamo, è un anno che collaboriamo con la Cranio volevo ringraziarvi veramente di cuore, volevo ringraziare soprattutto di cuore la PR Sara grazie veramente di cuore perché sei stata sempre gentilissima, professionale ogni volta che c'è una novità subito ce l'ha mandato cioè non c'è nemmeno bisogno di chiedervelo come ad esempio Emesis, U-Boat e gli altri giochi che ci avete mandato e a parte non c'è nemmeno bisogno di chiedervo che già siete voi che mandate la mail a tutti quanti noi recensori che ho scritto guarda stanno per arrivare questi giochi qui, ti interessa recensirne qualcuno e subito il contatto è diretto, quindi grazie veramente per la cortesia, per la professionalità ed è veramente un onore disumano e lo sapete, ve lo dico sempre, anche troppo forse sul logo eroico lo riconosco, collaborare con voi della Cranio, quindi grande Cranio, grazie davvero di cuore per averci fornito questa copia della recensione, copia recensione che vedete nella versione retail però comprensivo di tutto quello che c'era nel Kickstarter, quindi il gioco base e la sua prima espansione che è questa qui, ma questa è un'espansione come tutte le espansioni dei giochi che tratteremo prossimamente, comunque ci hanno mandato da recensire il gioco base con all'interno un modulo che è venuto fuori dal Kickstarter, un modulo aggiuntivo quindi è già una piccola espansione anche dentro il gioco base, ce l'avete tutti comprandolo e poi la prima vera e propria espansione che aggiunge contenuto in Roma più ma di questo vi parlerò la prossima volta in un altro video mi viene da dire Barrage, lo so che Barrage, mia moglie me l'ha detto 100.000 volte perché il gioco è di ambientazione francese è ambientato nel 1922, subito poco dopo la Grande Guerra e è un gioco in cui noi dobbiamo prendere e costruire delle centrali idroelettriche e trasportare la principale fonte di energia e ovviamente anche di introiti che è l'acqua quindi dobbiamo portare l'acqua da monte a valle facendola passare per le nostre condotte le nostre chiuse, le nostre dighe e poi dopo lavorandola per convertirla in energia ovviamente è un gioco non cooperativo, è un gioco a squadre ed è un gioco dove si vince guadagnando più punti possibili rispetto ai vostri avversari ed è un gioco se non erro, sì, da 1 a 4 giocatori dai 14 anni in su perché non è complicato, ancora una volta però ci sono delle meccaniche complesse ecco, come dico sempre, più che complicato è complesso nelle meccaniche è un gioco veramente strategico e soprattutto più che strategico logistico al 100% e della durata qui da 120 minuti, sì, forse come durata ci siamo perché se perlomeno un'oretta e mezzo, due ore dura una partita soprattutto la prima che comunque c'è uno scenario tutorial unboxing, scatola, bella, tra l'altro anche il disegno, vedete, le Tesla perché infatti in questo gioco qui richiama anche l'ambientazione e la storia stessa su un'invenzione di Nikola Tesla e vedete, la confezione è molto bella, si vede una diga e con questa fabbrica, questa centrale che produce energia ovviamente con lo scorriere dell'acqua pesante da morire l'ambientazione è un po', è un misto, non è uno steampunk è a cavallo fra un'ambientazione steampunk perché ci sono anche delle specie di mecc che lavorano, vanno a scavare e cose del genere è un'ambientazione a metà fra lo storico del 1920 e un'ambientazione steampunk comunque è veramente molto caratteristica e ragazzi è un gioco, fidatevi, dà paura apriamolo regolamento, veloce ed immediato è veramente facilissimo in più c'è una guida introduttiva che vi fa fare una partita di prova proprio classico aprimi e giocami senza bisogno di leggere tante regole soprattutto quelle più complesse perché nel manuale c'è una modalità di gioco semplice e una modalità di gioco estesa regolamento automa che è praticamente sono delle regole aggiuntive per il gioco ma sono anche un vero e proprio modulo in più quindi fate conto che è una piccola prima espansione dentro il gioco è tutta roba che sono stati sbloccati con gli stretch call in campagna Kickstarter le strutture di vari colori come vedete nere verdi divise per bustine e in queste strutture ci sono le dighe i rialzamenti gli innalzamenti delle dighe le centrali elettriche che sono queste qui dietro le condotte che sono queste specie di colonne che vedete qua giù tra l'altro molto belline fatte in legno e tanto poi vi faccio vedere come funzionano le risorse da utilizzare che sono tipo gli scavatori e le betoniere segnalini acqua che servono ovviamente per produrre energia le ruote in cui mettere le vostre risorse girarle per costruire nuovi edifici dighe come vi ho detto condotte e quant'altro varie plance con le varie fazioni ad esempio qui dietro si vede un portavoce un emissario dell'Italia e qua giù dietro invece uno della Francia ci sono le varie nazioni in campo comprese anche la Germania l'America insomma le superpotenze mondiali anche di oggi ma soprattutto di quell'epoca lì e poi ci sono altre 2000 planche 2000 token ragazzi che vi faccio vedere nella parte successiva direttamente aperte sul campo perché c'è veramente un mondo di roba da mostrarvi in questo gioco allora ragazzi si parte a fare una carrellata di tutti i pezzi che ci sono in gioco perché sono veramente abbastanza partendo da qua giù è il tracciato dei punteggi che si possono guadagnare nei 5 turni di gioco perché ricordo che il gioco si sviluppa in 5 turni come vedete sono divisi dalle caselle che è il primo turno il secondo il terzo il quarto il quinto e poi il passaggio al punteggio finale sull'indicatore c'è noi abbiamo organizzato una partita a 4 giocatori però ovviamente anche per questioni di tavolo perché è veramente molto grande il barrage e non ci basterebbe per farci una partita bisogna allargare un portavolino abbiamo messo soltanto un giocatore in campo che è l'Italia con le pedine verdi e qui vedete che nel tracciato 0 c'è il contatore dei punti dell'Italia qua giù c'è il contatore del turno quindi chi è in alto muove per primo secondo terzo e quarto ovviamente dovete mettere tutte le altre nazioni a propria scelta per come verrà gestito il primo turno finito il primo turno dovrete mettere chi ha avuto il punteggio minore in cima e chi ha avuto il punteggio maggiore in fondo così da dare una mano insomma anche alle aziende che stanno arrivando un po' in secondo piano e non farle sempre agire per ultime quindi questo è il tracciato dei punteggi si passa sulla plancia della fazione che in questo caso qui abbiamo scelto l'Italia e ci vanno messe tutte quante le strutture in legno che avete trovato dentro la bustina che sono dighe rialzi o innalzamenti per le dighe quindi 5 dighe 5 rialzamenti 5 condotte e 4 fabbriche 4 centrali qua sotto mentre invece dovete sempre aggiungere la scheda di un personaggio speciale perché questa è la plancia della fazione e questo invece è l'ufficiale esecutivo ufficiale esecutivo che ha un'abilità quindi ciascun ufficiale esecutivo è diverso dagli altri sceglieteli accuratamente perché hanno sempre un'abilità elencata sotto e poi dovete mettere le betoniere che sono questi simbolini per quanto vi chiede qui dovete mettere gli escavatori e le monete di partenza di solito sono sempre tipo 6 6 o 4 cose del genere nel taglio che queste grosse di betoniere in questo taglio qui valgono 5 questa leggermente più piccolina qui vale 3 e poi si va a quella veramente minuscola 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 che vale eccola qui piccolina che vale 1 quindi questi sono i vari tagli sia per gli escavatori che per le betoniere in questo caso come vedete 3 più 1 e in questo caso invece un 5 più 1 che fa 6 plancia dei progetti avanzati che io non vi consiglio di usare per la prima partita comunque per farvi nella descrizione tanto poi lo vedete nel corso della partita potrete mettere vari operai laggiù in fondo per fare variazioni che scusate prima non ve le ho fatte vedere nella plancia della fazione che sono questi qua e ciascuno di partenza ce n'ha un bel grusoletto un bel mucchio che può usare sono usati per tutte le azioni che sono nel gioco mettendo due operai qua giù e pagando la cifra che vedete qui in monete potrete prendere uno di questi progetti che sono progetti avanzati ma ve l'ho detto questa è un'altra storia che magari ve lo spiegherò in un prossimo video di partenza non la usate perché vi complica soltanto il gioco la famosa ruota di barrage con i cinque progetti di partenza che poi vi faccio vedere come funzionano che sono praticamente una condotta un rialzo una diga una centrale e uno qualsiasi un punto interrogativo che potrebbe essere un qualsiasi altro progetto che andranno messi qui dentro e fatti girare per attivare e costruire ma quello ve lo faccio vedere dopo plancia dei progetti questa qui generale per tutti i giocatori e quindi questa è a pubblica a disposizione di chiunque che sono vari progetti che si possono costruire ora poi ve li vado a descrivere piano piano man mano uno dopo l'altro il gioco ha una fase principale che è una fase dove bisogna vedere le risorse che si sono guadagnate cose varie e una fase delle azioni come vi ho detto prima ciascuna fazione in ordine di iniziativa ha i propri operai operai che poi alla fin fine sono tanti vi faccio vedere più o meno quanti sono questi sono quelli di una fazione di colore verde quindi sono tanti e il turno finisce quando tutti quanti gli operai sono stati posizionati o il giocatore di quella fazione lì di quell'azienda di quella nazione soprattutto decide di passare il turno ragazzi non c'è nemmeno bisogno che ve lo descriva per prendere questa azione qui ce ne dovete mettere due vedete c'è un simbolino col due con due testine che vuol dire che ne dovete mettere due per prendere questo bonus in questo caso vuol dire che durante questa produzione di acqua e di energia in questo turno avrete un bonus di più due il primo che arriva primo arriva meglio alloggia quindi il primo che arriva ci metterà due omini e si sarà presa questa azione quindi gli altri giocatori non ci potranno mettere le proprie pedine nel caso un altro giocatore volesse il bonus di più due potrebbe facciamo conto questo fosse il giocatore rosso potrebbe andare a prendere da quest'altra parte quindi ci mette non due pedine come questo ma ce ne mette tre e in più deve pagare le monete che sono qui accanto pagando mettendo tre operai e pagando tre avrà lo stesso bonus del giocatore verde con la differenza che lui ha dovuto usare un operaio in più e spendere tre monete perché come detto in questo gioco chi prima arriva meglio alloggia quindi produzione di energia banca qui vedete c'è un numero infinito ci metto uno mino ad esempio e mi prendo un soldo che potrebbe essere una monetina questa qui e me la porto di là perché per costruire progetti ci vogliono soldi oppure ci metto cinque operai e mi prendo cinque monetine una moneta per operaio l'azione di qua invece vuol dire mettere due gocce d'acqua che è la cosa più importante del gioco in qualsiasi bacino in qualsiasi bacino però ragazzi il bacino è d'origine perché l'acqua nasce ovviamente a monte e poi scende giù a valle con bacini idrici o comunque collegamenti naturali questo vuol dire che dove voglio metto due gocce di acqua questo vuol dire che ne metto una sola dove voglio però che scende subito non nel turno dell'acqua perché il turno dell'acqua è successivo all'azione con questa azione qui faccio girare la ruota di uno che poi ve lo faccio vedere successivamente mettendolo sotto la faccio girare di due ma devo spendere due monete la faccio girare di tre ma ne devo spendere cinque qua giù sotto invece mi prendo un escavatore mi prendo o un escavatore o una betoniera l'ultima qua giù in fondo ma è quella che costa di più mi prendo un escavatore e una betoniera ultimo ma non meno importante i progetti che sono divisi per progetti avanzati che sono questi qua lo vedete il costo in punti che poi ve lo faccio vedere dopo in energia è sicuramente più alto ma ti danno dei bonus assurdi perché questo ti darebbe otto punti vittoria e otto monete questo addirittura ti darebbe sei punti vittoria e quattro tra betoniere ed escavatori e poi qua sotto invece ci sono i contratti pubblici che sono questi qui che ciascun giocatore può andare a prendere al solito stessa regola ragazzi ci metto l'omino qui me ne prendo uno ci metto l'omino qui me ne prendo uno metto due mini sotto ne prendo due però devo pagare anche una monetina per prendere i progetti pubblici questi qua che sono divisi in ordine verde giallo e rosso verde ragazzi sono quelli più facili gialli sono quelli un po' più difficili e rossi sono quelli in fondo ci vuole semplicemente più energia per completarli ma più lo prendete difficile più sicuramente guadagnerete di risorse questi vengono presi ok quindi ne viene comprato uno il giocatore dice che ne so compro questo e qui subito si va a sostituire con uno nuovo e questo si mette sulla plancia del giocatore ciascun giocatore può avere tre progetti privati che non può ovviamente finire un altro giocatore tre soltanto quindi se non doveste prendere un quarto ne dovete per forza scartare uno nella pila degli scarti o se no questi che sono pubblici ma sono soltanto tre in tutta la partita quindi il primo giocatore che li completa tutti e tre questi sono vinti il gioco è diviso in cinque round e ciascun round è diviso in cinque turni in cinque azioni da fare la prima fase delle cinque è la rendita e le sorgenti quello che vi ho detto prima si fa semplicemente il conteggio dei punti poi c'è la fase delle azioni che è quella che vi faccio vedere ora la fase dell'acqua che è la più importante di tutto il gioco il conteggio dei punti e poi la fine del round ovviamente ragazzi in questo gioco vince chi ha più punti banale dirlo quindi è una sfida a chi produrrà non solo più energia ma farà più punti all'inizio della fase facciamo conto noi siamo sempre il giocatore verde quindi contatore dei punti e tutto quanto siamo sempre il giocatore verde che in questo caso qui è l'Italia e abbiamo tutte quante le risorse di partenza a nostra disposizione prima cosa da fare all'inizio del turno bisogna vedere queste quattro di queste plancettine qui casualmente e praticamente a divisione dei quattro turni perché nei primi quattro turni di gioco verrà prodotta acqua ok? dalla montagna nell'ultima fase non viene prodotta acqua e qui sopra c'è scritto che ne so nel primo turno qui ci vengono messe due gocce al secondo turno in quest'altra ce ne verranno messe due come vedete e qui zero nel terzo turno però qui ce ne vengono messe due e qui ce ne viene messo zero basta che leggete semplicemente cosa c'è scritto sopra quindi un primo turno comincerebbe con per farvi l'esempio come sono messe ora due qui perché dice due lo vedete nel primo turno qui zero qui zero e qui uno quindi qua giù in fondo in questo bacino produce un'acqua ora vedete che ciascun bacino dividete la mappa in tre zone che sono bacino di montagna bacino in collina e bacino in pianura quindi ovviamente l'acqua segue il corso naturale senza condotte quella è una cosa che vi dico dopo è una cosa costruita artificialmente segue i fiumi e va giù verso valle quindi da monte a valle questa goccia qui ora per farvi l'esempio nasce qui non essendoci nessuna barriera naturale perché vedete non ci sono dighe come in questo caso questa goccia nella sua fase farebbe praticamente così poi non trova o non c'è dighe non c'è nulla scende va qui va qui va qui va qui e poi va in fondo esce dal tavolo perché quando passa questa parte qua giù in fondo la goccia è persa e arriva nel miscuglio praticamente arriva al mare perché non c'è niente che la ferma però invece in una fase come questa qui vedete che qui dietro c'è una gocciolina ve l'ho spostata un pochino perché sennò con la diga magari non si vedrebbe una diga può avere due innalzamenti come vedete in questo caso qua giù c'è la diga sotto primo rialzo e secondo rialzo qui si rischia di far cadere tutto quindi questa è una diga con diga base più due rialzi quindi di un valore di tre che può tenere fino a tre gocce una diga normale di valore uno può tenere una goccia perché non ha rialzi quindi quando nella fase dell'acqua queste due gocce scenderanno perché vedete scenderanno a un certo punto l'esposto verranno giù troveranno qui la diga la diga riuscirà a fermarne una perché una diga una goccia se invece fosse stato diga più un rialzo ne avrebbe fermate due però le altre due passeranno e passeranno seguendo il fiume andranno qua giù nel caso qua giù non troveranno nessun tipo di blocco scenderanno qua giù e poi andranno al mare e saranno perse se invece queste gocce seguissero il corso da qua giù e andassero fino in fondo qua giù le potrebbe tranquillamente occupare tutte e tre le potrebbe trattenere tutte e tre perché vedete è una diga con due rialzi quindi uno due tre uno due tre potrebbe tenere tutte quante le gocce questo è il funzionamento di come nel turno dell'acqua l'acqua scorre nella fase delle azioni la prima cosa da fare è andare a costruire condotte vedete che sono sempre ai lati dighe e centrali vedete che ci sono dei valori sulle mappe che sono intanto le condotte colorate che vi fanno capire ad esempio se io costruisco una condotta qui questa condotta seguendo la strada rossa andrà a comunicare con queste centrali qua giù in fondo andare a posizionare qui una diga non costa niente ce la posizionate e basta andare a posizionare una condotta qui è una condotta qui non costa niente perché vedete anche qui allo stesso modo potete tranquillamente mettercele in un accosto però se volete mettere una seconda diga qua su in cima dovete per forza di cose pagare il valore che c'è qui in monetario quindi il primo giocatore questo è un gioco davvero che prima arriva meglio alloggia costruisce una diga qui e non paga niente il secondo magari il giocatore rosso costruisce una diga qua giù e deve pagare tre monete quindi deve andare a prendere i suoi soldi pagare tre monete e potrà costruire la seconda diga qui nel gioco ci sono di partenza delle dighe neutrali che sono col setup il setup del gioco pescando delle carte che sono poi alla fine queste qua giù che le pescate all'inizio vi dice come mettere una diga a monte una diga a valle e una diga intermediaria in collina a noi ci sono capitate così quindi queste dighe naturali possono essere usate da tutti sono dighe di tutti sono a beneficio di tutti quindi non è una diga di un altro giocatore che noi non possiamo sfruttare questa qui è una diga disponibile a tutti quanti e il giocatore all'inizio del proprio turno dovrà andare a spendere risorse nella ruota che ora vi faccio vedere come funziona ma prima vi voglio dare un'esperienza generale del movimento sul tabellino di gioco nel gioco le azioni che si possono fare sono tipo costruire una diga e anche qui mettiamo caso che io questa diga la voglia costruire dove era che partiva l'altra goccia qui c'era una gocciolina di partenza mi ricordo mettiamo caso io la prima diga la voglia costruire qui ok con la prima azione che farò poi voglio costruire una condotta del mio colore qui e quindi ci andrò a mettere una condotta del mio colore e poi qua su sotto ci andrò a mettere una centrale elettrica quindi come vedete cosa ho fatto ho nel turno dell'acqua quando la gocciolina scenderà io ho bloccato l'acqua che scende fino a qui l'ho bloccata con la mia diga perché ha un valore di 1 se ne scendessero 2 questa andrebbe oltre stessa regola di prima l'ho bloccata quindi rimane nel mio bacino idrico e in più la condotta è verde quindi la condotta è mia io nella fase di produzione prenderò direttamente questa goccia la sposterò per la condotta connessa gialla e andrò fino in fondo alla mia centrale elettrica e quindi questa goccia io la trasformo in energia vedete che accanto a ciascuna condotta c'è un valore voi dovete semplicemente moltiplicare il valore sulla condotta per il numero di gocce che avete mosso quindi 3 per 1 3 io facendo questa azione nella fase di produzione dell'energia con questa goccia d'acqua ho fatto 3 punti 3 punti che poi devo andare a mettere sul tracciato finale che poi vi faccio vedere insomma sul conteggio dei punti quindi le cose principali da fare sono bloccare l'acqua con una diga vostra o una diga neutrale o perché no anche sfruttando la diga di un nemico facciamo conto che qui prima di me ci ha costruito una diga un altro giocatore quindi se ce l'ha costruita un altro giocatore questa goccia d'acqua si ferma qui ed è fermata nel bacino idrico del giocatore rosso come vedete però comunque niente mi vieta di costruirci una condotta quindi se io nel mio turno questa goccia arriva qui e lui prima di arrivare nel suo turno io la sfrutto nella mia fase di produzione per spostarla tramite la mia condotta e portarla alla mia centrale lo posso fare tranquillamente quello che servono le dighe è per bloccare e incanalare l'acqua questa è la cosa più importante perché comunque ricordatevi che anche con il bacino di un avversario voi potrete sempre sfruttare il fatto della condotta oppure anche semplicemente alla rovescia se questa zona è rossa scusate se questa zona è verde ma qua giù invece di avere una condotta verde abbiamo una condotta rossa il mio avversario potrà sfruttare la sua condotta per andare a guadagnare punti con la differenza che se è tutto verde io guadagno i punti che vi ho detto prima e finisce lì io ho il mio punteggio ho convertito questa risorsa in energia aggiorno il punteggio e finisce lì se invece la condotta che io vado ah la centrale deve essere vostra non potete assolutamente convertire acqua in energia se la centrale è di qualcun'altra quindi la centrale deve essere vostra però se la condotta che andate ad usare ok o il bacino o la condotta che andate ad utilizzare è di un avversario dovete pagare dazio e pegno cosa vuol dire che io comunque posso fare la mia azione usando la condotta di un altro colore perché la condotta è un bene di tutto ed è legato alla mia centrale quindi anche la condotta del rosso è legata alla centrale verde io posso anche dire oh uso la tua condotta per convertire l'energia e al solito farò sempre 3 il valore per le gocce convertite uguale il punteggio però dovrò pagare una moneta al giocatore la cui condotta o il bacino idrico è di appartenenza e in più non contento gli darò anche un punto vittoria perché come dire sì io ti lascio usare la mia condotta per fare energia ma te comunque mi devi pagare qualcosa e questo ragazzi bene o male è tutto il funzionamento delle azioni che si possono fare nel corso della partita ovviamente la partita è molto più articolata e ampliata di così comunque la cosa importante voi dovete fare la vostra strategia per riuscire a incanalare l'acqua bloccarla e farle muovere con le condotte perché se voi qui avete messo un muro da uno e poi ne avete messo qui uno da due ne avete messo qui uno da tre però l'acqua che scorre di qui mettendocene uno soltanto uno lo bloccate ma poi tutti gli altri due tre che saranno vanno giù a valle e vengono perduti quindi dovete in tutte le maniere bloccare l'acqua cercare di dare meno soldi e punteggio agli altri giocatori ma soprattutto riuscire a incanalarla tramite la condotta di un altro ma meglio ancora una condotta vostra e riuscire a quel punto lì a guadagnare più punti possibile più energia senza dare soldi a nessuno vi ricordate vi ho detto all'inizio progetti generali per tutti che sono questi qua cioè più piccoli per tutti una volta fatti vanno scartati li girate all'altra parte vuol dire che non sono più utilizzabili e poi i progetti che potete comprare ad esempio se un giocatore ha messo qui uno dei suoi operai perché vi ricordo che tutte le azioni che dovete fare all'inizio sono sempre mettere gli operai in queste caselle qua giù per prendere risorse per prendere strutture per prendere altro anche perché gli operai non ve li ho descritti finora ma sono la parte più importante sono quelli che vi consentono di fare tutte le azioni descritte sul tavolo di gioco perché non potreste costruire strutture non potreste fare niente senza i vostri operai quindi nel caso io ne metta uno qui il giocatore che ce l'ha messo e questo rimane qui fino alla fine del turno quindi ovviamente gli altri giocatori dovranno prendere altre caselle prendo questo progetto qui e vedete sopra c'è sempre un premio e c'è un valore vi faccio vedere questo qui nella fattispecie il valore in viola accanto vuol dire che quel giocatore lì potete completare questo contratto solo se avete almeno 4 di energia in quel turno tutta l'energia in più viene bruciata cosa vuol dire se io ho 8 di energia ho appena fatto 8 di energia dico oh ne completo 2 perché tanto sono 4 e 4 ne completate uno soltanto e gli altri 4 vanno persi quindi dovete farli selettivamente volta per volta però io completo questo e mi prendo un punto vittoria subito e 3 col marchi ingegno qui praticamente con la chiave inglese che vuol dire che la mia ruota che vi faccio vedere per ultima cosa girerà di 3 in senso orario oppure potrei semplicemente vincere questo qui da 7 che mi farebbe mettere 3 gocce d'acqua dove mi pare a me che poi gocce d'acqua che ovviamente convertiremo in energia quindi questa è una cosa importante in più questi progetti che sono pubblici qui non c'è bisogno di mettercelo meno se uno in quel turno che ne so dice ho fatto 14 punti energia completo sto progetto che mi dà 8 punti vittoria e 8 monetine ricordatevi che le monetine e soldi possano essere prese anche alla banca e sono tutto quello che serve per costruire strutture e ovviamente vincere la partita la ruota di barrage che è la ruota dei progetti e sopra come vedete la plancia più il personaggio speciale il direttore esecutivo che vi ricordo hanno delle abilità speciali nella fattispecie questo qui vedete cosa ci dà un valore di 3 che vuol dire che se noi abbiamo una diga ok in fondo con 1 e 2 rialzi dovrebbe fermare 3 gocce d'acqua perché una per la diga e una per ciascun rialzo questo invece ne ferma 4 perché è un'abilità speciale sua che riesce a incanalare più acqua e qui vedete accanto una scheda riepilogativa che vi dice la sequenza del turno guardatela cioè riepilogativa ci sono 3 cavolate scritte perché veramente ragazzi il gioco è velocissimo ora rispetto a quello che vi sto spiegando ci sono diverse regole in più e ragazzi non è tutto qui però veramente è un gioco molto 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 facile e vi va io non ho mai fatto giochi del genere mi è bastato leggere il regolamento due volte e infatti prossimamente ci farò un gameplay con mia moglie comunque questa è la ruota famosa rimasta famosa molto di Barrage perché è bellina e praticamente quando si va a costruire qualcosa ricordatevi sempre che abbiamo i nostri mini che sono i nostri operai i nostri operai che abbiamo già usato per prendere i contratti per prendere soldi per fare tutte le azioni che sono sul tavolino in più li possiamo usare sulla nostra plancia e sulla nostra plancia ce li possiamo usare solo noi non è che un altro giocatore può venire a rubare le azioni qua giù abbiamo le scorte vi ricordo i scavatori i betonieri e soldi quindi quello che possiamo utilizzare e come vedete qua su c'è un tracciato che ci fa vedere che possiamo mettere al lavoro dei progetti ok quindi vedete qui attivo un progetto con due omini nello stesso turno ovviamente che poi vengano resettate nel round successivo nello stesso round un progetto mi costa 1 un progetto mi costa 2 il terzo progetto mi costa 3 il quarto progetto mi costa 3 però mi costa anche 3 monete nella fattispecie io vado a mettere un omino qui per fare il primo progetto che sono questi qua giù che sono 5 di partenza la prima cosa che ti può venire in mente qual è? è inutile mettere una centrale se non metti prima una tua diga quindi il primo progetto che io voglio andare a costruire è una diga e la diga la metto qui l'andate praticamente a bloccare qua giù sulla ruota ora prendendo la diga è questa qui dovete sempre partire da quella in fondo a sinistra per poi scalare a destra la prima diga che io andrò a prendere è questa e ora vi faccio vedere come funziona cosa c'è scritto? che costruendola in montagna mi costa 5 scavatori costruendola in collina mi costa 4 scavatori costruendola in pianura me ne costa 3 senza betoniere perché le betoniere invece servono per costruire rialzi quindi la prima diga mi costa 5 scavatori vi ricordate che sono di vari tagli io prendo quello dal taglio da 5 le 5 risorse che avete speso non le dovete rimettere nel mucchio comune ma le mettete qui nella ruota quindi progetto che avete fatto più nella ruota e appena messe le girate in senso orario ok? di un giro soltanto quindi le avete girate in senso orario per prendere un punto di riferimento guardate sempre quando questa parte qua su da l'inserimento per altri progetti quindi l'ho girata di 1 ok? sulla ruota e vedete l'ho girata in questo settore qui che i settori sono scanditi praticamente dal disegnino di una chiave inglese quindi questa cosa serve mi serve per dire che se io non vado a sbloccare altri progetti io non posso più costruire dighe perché dove ce l'ho qui i segnalini delle dighe c'ho una condotta c'ho una centrale quindi fino a che questa cosa non li farò fare tutto un giro e tornerà al punto di partenza così facendo tutto il giro tornando al punto di partenza arrivando qui vuol dire che risblocco sia gli escavatori che ho usato che il progetto e quindi me lo posso riprendere e ritorno a disponibile però fino a che qui nella ruota io non potrò riavere indietro nelle mie risorse investite né tantomeno la struttura costruita e come faccio a velocizzare il tempo per velocizzare il tempo vi ricordatevi ho fatto vedere che sul tracciato generale o anche nelle missioni ve ne faccio vedere uno nella missione che vi ho detto prima 4 di energia un punto vittoria e 3 chiavine quindi vuol dire che io facendo questa missione qui questo contratto girerò di 1 2 e 3 e come vedete velocizzò il tempo nel caso finisse un'antemissione del genere girerò ancora di 3 fino a sbloccare le risorse e quello serve soltanto per dirvi occhio che fino a che ha impegnato questa risorse perché magari io nel frattempo ho impegnato anche una centrale qui con tutte le risorse che ci vogliamo per costruirlo quindi ho le risorse bloccate che non posso arriverle indietro cioè più che altro le risorse i lavoratori gli escavatori e le betoniere e in più non ha nemmeno più la possibilità di costruire questo progetto e questa è la cosa più importante finiscono le regole sulla plancia della fazione vedete ci sono dei simbolini a volte ok questi qui sono le rendite praticamente quando voi costruite il primo la prima diga non succede niente di che quando andate a posizionare la seconda diga vedete che sotto c'è una rendita e la rendita col punto esclamativo vi dice ok hai guadagnato tre monete d'oro oppure nel caso costruissi il secondo rialzo la rendita mi dice col punto esclamativo gira la ruota di uno ok oppure qui sotto mi potrebbe dire guadagni o una betoniera o un escavatore ragazzi il gioco è veramente tutto qui e poi la parte finale quella più importante che non vi ho fatto vedere ma perché è una parte puramente di conteggio e io conteggio la matematica è la cosa che odio di più è una fase di punti ovviamente chi guadagna punti si muove su un tracciato in particolare e sul tracciato generale della mappa i punti dei giocatori sono elencati qui quelli che si guadagnano durante il round di gioco e i punti generali ho guadagnato 20 punti andrò avanti di 20 su questo tracciato ovviamente ne ho guadagnati 4, 5, 6 voi spostate per quanti punti questo è il tracciato generale che vi fa vincere la partita intorno alla mappa e questo invece è il tracciato di partenza se io ho guadagnato ad esempio 4 punti 1, 2, 3, 4 e quando finirò il turno la mia rendita mi darà 3 monete d'oro perché avendo guadagnato 4 punti becco 3 monete d'oro se invece arrivate in questi qui grossi li vedete che sono praticamente connessi da un fulmine quando arrivate a guadagnarne 6 che sono quelli con un cerchio un po' più grosso 12 18 24 e 30 tutti i giocatori che ci sono arrivati potrebbe essere uno soltanto ma potrebbero essere due o più prenderanno il bonus che c'è qui nel caso che ci arrivi un giocatore se lo prende lui nel caso che ci arrivino due giocatori se lo devono dividere e qui cosa ti dice prendi 5 punti vittoria per ogni centrale costruita c'ho una centrale in gioco 5 punti ce ne ho 2 10 stessa cosa di qua quando arriverò a 12 punti mi dice prendi 4 punti vittoria per ogni condotta che c'è qui sotto e poi ovviamente una volta usato lo dovete girare dalla parte che è stato utilizzato quindi c'ho 3 condotte in gioco del mio colore 3x4 12 quindi sono 12 punti punti che non dovete aggiornare qui qui sono quelli reali però le aggiornate sul tabellone quindi 10 punti di va e 12 di qua tra e va avanti di 30 ragazzi questo ben o male tutto il gioco ma ovviamente non finisce qui barrage è molto più complesso di quello che ve l'ho spiegato però ben o male le meccaniche di funzionamento sono queste in conclusione questo è barrage non mi interessa fare tutorial anche perché a parte lo fanno già troppi altri canali poi è un tema che non mi interessa è un qualcosa in più da portare nei video che non mi interessa e vi do sempre un'infarinatura anche perché prima di starvi a spiegare tutto il gioco mi piace darvene un'idea come dire ma questo gioco può essere fatto per me oppure no e poi più che fare tutorial guardatevi un gameplay che faremo in futuro quello è molto meglio perché perlomeno turno dopo turno vedi bene come gira comunque ciancio alle bande questo barrage mi è piaciuto da morire qui vabbè vi ho messo la scatola dell'espansione vedete non l'abbiamo nemmeno ancora aperta mia moglie ma sarà motivo di video del prossimo video su barrage però prima ci vogliamo fare un gameplay così da mostrarvi per bene veramente come funziona e poi ovviamente l'espansione verrà successivamente allora se gli devo dare un voto a un gioco del genere gli do un 9 su 10 veramente ragazzi non scherzo mi è piaciuto da morire e come altri giochi prima di questo ci sono a volte dei temi di cui non me ne frega nulla prendo ad esempio il o che non me ne è mai fregato nulla prendo ad esempio il discorso di Sean Brun che mi ha mandato allo giochi uniti quello del congresso danzante di Vienna e tutto quanto a me non me ne fregava niente né del periodo storico battaglie napoleoniche cose varie né tanto meno del congresso di Vienna però le meccaniche del gioco talmente bene raffinate e un regolamento fatto bene comprensibile ma che soprattutto ti scicca tapulta in quell'ambientazione perché a volte il regolamento sembra distaccato dall'ambientazione che viene usata invece perfetto infatti Sean Brun ve l'ho considerato da morire della giochi uniti sono riusciti a famici appassionare anche a uno come me che non gliene frega nulla non è detto che domani potrei prendere un gioco di calcio a me del calcio poi mi fa schifo il calcio però magari se le regole sono belline è una cosa magico generale mi potrei divertire e anche Barrage ci è riuscito per quanto a me di queste condotte acqua non me ne frega nulla anzi non sono nemmeno uno di quelli che è affascinato a vedere le dighe in montagna con quest'acqua trattenuta a queste condotte non me ne frega niente però sono riusciti a farmi appassionare a questo argomento qui idrico e comunque soprattutto per un fatto anche molto importante di produzione di energia 300.000 virgolette pulita però comunque l'acqua è la prima fonte energetica del mondo del nostro pianeta lo sappiamo e mi è piaciuto veramente da morire le meccaniche perché sembra talmente tanto ti calano nella parte che sembra quasi che queste gocce tu le veda cadere davvero cioè a me piacerebbe fare una versione di Barrage 3D ve lo immaginate bello con monte pianura monte collina e valle pianura e farci scendere veramente l'acqua e doverlo bloccare veramente con delle dighe mamma mia vabbè ora sto navigando un po' troppo però è bellino come idea e mi ci ha calato molto nella parte di questi ingegneri insomma queste società che cercano di produrre nuova energia ma allo stesso tempo mangiarci e lucrarci sopra quindi assolutamente un 9 su 10 meritatissimo io ancora una volta ringrazio la Cranio Creations per avermene offerta una copia per la recensione più ovviamente l'espansione che faremo a breve quindi grande cranio grazie veramente da paura siete sempre disponibilissimi e abbiamo apprezzato veramente molto il gioco quindi il voto solo merita tutto prossimamente vedete un gameplay e poi vi faremo vedere la descrizione dell'espansione delle cose nuove che inserisce e tutto quanto quindi trovate il primo link in descrizione per acquistarlo e tutti quanti i link dei nostri social ragazzi è veramente molto bello sono giochi io ve lo dico onestamente che se l'avessi visto magari su sbagliando sulla bancarella al look avrei detto ma cos'è si basa con l'acqua devi portare l'energia io sono più da dungeon crawler e sono più da zombie side ce l'ho tutti qui dietro magari non l'avrei nemmeno guardato però ho visto un video su youtube di un americano l'ho visto l'ho guardato ho detto porco mondo è una figata assurda fammelo un po' chieda alla cranio se me lo mandano quindi tante volte ci si limita anche all'impatto che dà la scatola o al tema dentro contenute ci perdiamo i giochi più belli e in questo caso qui mi sarei perso un capolavoro ciao ragazzi alla prossima ciao